Sì, ma no, ma Doni, io non ce la faccio più so stanco, eh. Sta cosa mi pesa, eh. Ma Doni, ma secondo te è abbastanza trasgressivo? Non dico al pubblico, lo capirà sto doppio senso? Vai, 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 vai. È un tantinello raffinato, eh. Ma io penso si capisca, dai, dai. Fermati con sti. Vai, comincia, dai. Oh, la tornuta, ma che sta a fare? Ah, Doni, questo mi sta a brucare sul simbolo falli. Oh, ma te stai ferma, che fai lì? Eh, sia sta, dai, sono animali, sono cose naturali, dai. Oh, guarda che senti navai. Da doncarci al culo ti faccio diventare una mucca pazza, eh. Oh, per l'amor di Dio, la tocca che qui le mucche sono sacre, eh. Ma quale sacra, ma quale sacra, questa mica navaccia. Questa è una porca. Senti, a culo profonda, vedi dannate ne che momma ha rotto, eh. Allora è come dirla al muro. Beccate questa, giusta, così te impari, va bene?